Oggi voglio parlare di uno strumento finanziario molto particolare che fa parte della famiglia dei fondi comuni di investimento, il SICAV. I SICAV sono delle società di investimento a capitale variabile che hanno come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. In pratica, viene costituita la società e vendute le azioni in una fase di collocamento. I soldi raccolti con questo collocamento, a differenza delle normale aziende quotate, servono a comprare i titoli da inserire dentro il fondo e che quindi vanno a comporre il patrimonio della società. Questo significa che il SICAV, a differenza del normale fondo comune di investimento, non è suddiviso in quote, mai in azioni. Prima di continuare, ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato su tutte le nuove pubblicazioni di video e ti ricordo anche di cliccare nel link che trovi giu' in descrizione per scaricare gratuitamente i 7 video per investire da zero. Essendo delle società quotate in borsa e suddivise in azioni, il SICAV, a differenza del fondo comune di investimento, dà ai suoi possessori lo status di azionista e quindi anche quello di poter partecipare alle assemblee, di esercitare il diritto di voto e tutti gli altri diritti che hanno in genere gli azionisti. Tuttavia, l'amministratore del SICAV è una società di gestione del risparmio che ha il mandato di gestione delle risorse finanziarie. Un'altra caratteristica del SICAV è che essi possono essere suddivisi, internamente, in compatti che investono in titoli di diverso tipo o con diversa strategia o quant'altro. A questo punto, è possibile suddividere il patrimonio dei vari compatti ed emettere azioni di tipo differente legato ognuno ad un singolo compatto. Questo permette, quindi, di investire in un compatto specifico del SICAV ma è comunque possibile passare da un compatto all'altro del fondo su richiesta dell'investitore. Oltre a quanto detto fino ad ora, il SICAV è una società a capitale variabile in quanto, nel tempo entrano nuovi soci e ne escono altri, quindi il capitale di per sé varia. Inoltre, siccome è costituito da titoli finanziari e questi hanno una quotazione che varia nel tempo, anche la somma di tutti i titoli che fanno parte del SICAV varia nel tempo, aumentando o diminuendo, e di conseguenza il capitale sociale varia con esso. In definitiva, il SICAV ha sia una verazione del valore dell'azione, cioè le azioni possono apprezzarsi o deprezzarsi in base all'andamento dei titoli del fondo, sia un numero di azioni che può aumentare o diminuire. Pur essendo una società quotata in borsa, alle SICAV non è permessa emettere obbligazioni, cioè dei titoli finanziari per ottenere sostanzialmente un prestito di denaro dietro pagamento di un interesse periodico, anche perché, non avendo niente di materiale, non avrebbe senso. Inoltre, non puoi emettere azioni con privilegi differenziati, come ad esempio le azioni risparmio, né utilizzare tecniche di riacquisto delle proprie azioni nel mercato per speculare sulla variazione del prezzo della propria azione. Essendo uno strumento finanziario, è normale chiedersi se i soldi investiti nei SICAV sono al sicuro meno. Innanzi tutto, inseminiamo la sicurezza dal punto di vista legale. Il rischio di un SICAV può derivare da Rischio fallimento del soggetto collocatore Rischio fallimento della banca corrispondente Rischio fallimento della banca depositaria Rischio di prelievo forzoso Rischio di prelievo forzoso Rischio dell'uscita dall'Italia dall'Euro In caso di fallimento del collocatore, della banca corrispondente o di quella depositaria, non avendo alcun diritto sugli investimenti del cliente e avendo il patrimonio separato, non si subirà nessun danno. Il SICAV in sé, inoltre, non può fallire in quanto è la somma dei titoli che lo compongono e quindi il suo valore è sempre uguale alla somma dei titoli del fondo. Rimangono le ultime due preoccupazioni, i prelievi forzosi dello Stato e l'eventuale uscita dall'Euro. Benchè sia una paura comprensibile, nessuno dei due casi può coinvolgere un SICAV. Innanzitutto, sono delle società di diritto lussemburghese e questo significa che lo Stato italiano non può metterci le mani sopra. Ergo, non può esserci un prelievo forzoso nel SICAV, anche se, è giusto dirlo, firmando trattati capestro come il MES, lo Stato potrebbe mandare una qualche cartella esattoriale da pagare proporzionare ai soldi investiti in prodotti esteri oppure rifarsi prelevando forzatamente da altri titoli o soldi depositati in Italia. Il rischio di uscita dall'Euro non esiste in quanto il valore è corrispondente alla somma dei valori dei titoli al suo interno. Ammettiamo che cambiasse valuta di riferimento, cosa che tra l'altro accadrebbe solo se esce Lussemburgo dalla zona Euro, in ogni caso i titoli interni avrebbero il loro valore, chi al piu verrebbe espresso il Lire. Questo significa che se la Lira svaluta ci guadagni un sacco di soldi. Uscire dall'Euro per gli investitori è molto conveniente anche se tutti si affannano a dire il contrario, in particolar modo se si proseguono dei titoli esteri. Tra l'altro era proprio il sistema che gli investitori italiani utilizzavano in passato per guadagnare dalla svalutazione della Lira. Esiste poi il rischio intrinseco del SICAV e cioè quello sulla perdita di valore dell'investimento per un andamento del mercato sfavorevole. Il SICAV, essendo un fondo comune, gode delle strategie tipiche dei fondi comuni per la riduzione del rischio. Ovviamente, se punti su qualcosa di totalmente azionario avrai il rischio tipico di un fondo comune azionario. Se invece investi in uno obbligazionario, subirai il rischio dei fondi obbligazionari e così via. Diciamo che puoi andare a visionare i video sui fondi comuni per fatto un'idea dei rischi. SICAV Essendo di fatto un fondo comune, i SICAV hanno dei costi tipici dei fondi comuni di investimento. In particolar modo, hanno un costo di gestione del fondo, che incassa come compenso la società di gestione del risparmio per i suoi servizi, e un costo legato alla performance del fondo, detto di incentivo. A questi si aggiungono dei costi una tantum legata all'operatività del cliente se ad esempio vuole passare dalle azioni di un compatto all'altro. Mediamente, un SICAV può venire a costare anche il 2% anno in costi di commissioni vari. Ovviamente, si può andare a risparmiare utilizzando dei fondi passivi come gli ETF, che costano circa un quarto, ma si trova a rinunciare ai diritti degli azionisti. Devi vedere cosa ti interessa di più se risparmiare nei costi o se aderire a un fondo dove hai diritto di voto e una gestione attiva del portafoglio titoli. Un ultimo aspetto da considerare è la tassazione dei fondi SICAV. La tassazione dei SICAV si attesta, normalmente, al 26% dei guadagni derivati dall'investimento, cioè il capital game previsto dalla legge italiana al momento che sto registrando. Tuttavia, se il fondo investe una parte del capitale in titoli di Stato UE, essi sono tassati al 12,50%. Per sapere l'ammontare della tassazione occorre stabilire la media degli investimenti in titoli di Stato con tassazione agevolata e poi fare le proporzioni. Ovviamente questo lavoro lo farà direttamente la società di gestione del risparmio. E non è che ti devi mettere lì a fare i calcoli. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo, prima di chiudere, di iscriverti al mio canale youtube per rimanere sempre aggiornato e di cliccare nel link in descrizione per scaricare gratuitamente i 7 video per investire da zero.